Ehi, avete perduto il senno? E basta! Ma che vi prende? Avete perso il senno? Andate! Ventato, un giorno avrà ciò che si merita. Ehi! Non puoi stare qui! Una volta stasera senza parole e poi ha fatto molto trovarla. I segni sulla chiave sono familiari. Il materiale l'ho già veduto prima. È simile alla mela dell'Eden. Un'antica tecnologia risalente alla prima civilizzazione. Un'antica tecnologia risalente. Sei ferito? La caviglia Come ti chiami, fratello? Altair, figlio di Umar Umar? Ah, sì Era un brav'uomo, morto così come è vissuto Con onore Altair! Ci hanno traditi, il nemico ha occupato il castello Te la caverai E al Molim, dove si trova? Era all'interno quando i crociati sono entrati Non possiamo fare niente per lui Altair, lascia perdere, dobbiamo ripiegare Quando chiudo la porta del castello, aggirate i crociati nel villaggio e spingeteli nella gola Non hai alcuna speranza Abbas, niente errori Non voglio morire No, non si tratta di me 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 Oh Un altro passo e il tuo Mentore morrà. Non te ne andrai vivo di qui, traditore. No, tu fraintendi. Io non sono un traditore. Perché non posso tradire coloro che non ho mai amato. Allora sei due volte miserabile, perché hai vissuto nella menzogna. Adesso chiami il tuo cane a proteggerti? Oh, mi deludi! Perché non condividi ciò che hai appreso con tutti come un assassino che si rispetti? Perché non condividi con i tuoi fratelli la reale estensione della tua ambizione? Dov'è il tuo senso di fratellanza? Un altro buon uomo muore e tu ancora non dici nulla! Sono stupido! Hai insegnato molte cose al Mualim, ma la pazienza non è mai stata proposta! Parla ora, o ti taglierò la lingua così che tu non possa parlare mai più! Hai troppa fiducia nel cuore degli uomini? Uomini Al-Tahir, i Templari conoscono la verità. Gli uomini sono deboli, vili e ignobili. No, il nostro credo dimostra il contrario. Forse non sono abbastanza saggio da capirlo, ma sospetto il contrario, che sono troppo saggio per credere a una tale follia. Gli hai dato un'occasione per conservare la dignità. Perché? Nessuno dovrebbe morire senza conoscere la gentilezza. Ma ha rifiutato la tua cortesia. Era suo diritto. Al-Tahir, tu ho visto abbandonare la fanciullezza in così breve tempo che ciò mi riempie di tristezza oltre che d'orgoglio. Ti adegvi al ruolo di tuo padre come fosse stato pensato per te. Non lo conoscevo bene come padre. Era prima di tutto un assassino. Anche tu sei nato nell'ordine. Te ne penti? Posso pentirmi dell'unica vita che abbia mai conosciuto? Potrebbe accadere col tempo. E starà a te scegliere la via che preferisci. Vieni, ragazzo. E tieni pronta la lama. Questa battaglia non è ancora vinta.